Mi ha visto che è un complejo? Vai con la... Non lo ricordi con la di casa? Sei presto tutto per noi! Patanello, la tradizionale maschera di Francavilla, fin dal 1958, sarà il simbolo del Carnevale abruzzese. Ispirato a un personaggio mitico della costa, irriverente e stravagante, che sarebbe vissuto a cavallo tra 800 e 900. Sarà lui, insieme ai tanti bambini, il protagonista del Carnevale 2020. I cari allegorici sono cinque e apriremo la sfilata con il nostro teatrino di Patanello, che è la maschera simbolo del Carnevale d'Abruzzo, ma di Francavilla. I cari che si seguiranno quest'anno sono maggiormente dedicati ai bambini, agli adolescenti. Tra dieci giorni inizierà la 65esima edizione del Carnevale d'Abruzzo. I biglietti saranno a pagamento e la cornice sarà a Francavilla al mare. Noi abbiamo solo il compito di assicurare il bel tempo, perché se piove è colpa del sindaco e dei governi, questo si sa, e quindi noi assicuriamo il sole e queste giornate stupende e speriamo che siano un buon viatico. La prima novità di quest'anno è che la manifestazione sarà patrocinata anche dalla Regione Abruzzo, che per l'evento ha stanziato 25 mila euro. Per la prima volta dopo 65 anni la Regione Abruzzo ha inteso inserire il Carnevale di Francavilla come manifestazione di rilievo dei regionali, già nella finanziaria, dando un fattivo contributo all'esecuzione di questa manifestazione.